I presepi come usanza da tramandare di padre in figlio. E la mostra presepi nella tradizione artistica e popolare del mondo, inaugurata in occasione delle festività natalizie in Salaviglione a Palazzo Lascaris. Nato come il presepe di famiglia, la collezione di proprietà dell'architetto Roberto Nivolo conta oggi 850 pezzi provenienti da Africa, Sud America, Europa e Asia. Creazioni in legno e cartone, vetro e cristallo, interamente realizzati a mano, rappresentano la natività e al tempo stesso il viaggio che ogni artista ha fatto all'interno della propria cultura. Negli anni 80 ho avuto occasione di andare in Kenya e in un viaggio sul lago Turkana, in una missione proprio sulle sponde del lago, ho visto questo presepe fatto da un pescatore locale. Era un presepe di una semplicità incredibile, ma di un fascino, di una bellezza che ti entrava nell'anima. Quella è stata la scintilla che ha fatto iniziare questa collezione. Nato nel 1223 dal desiderio di San Francesco d'Assisi di ricreare il momento in cui il bambino Gesù venne adagiato da Maria nella mangiatoia, il presepe è diventato nei secoli un simbolo di tradizione in tutto il mondo. C'è la volontà a parte nostra di far conoscere a tutti i piemontesi la cultura cristiana, la cultura europea e i valori tradizionali piemontesi che sono quelli anche cristiani, quelli di tutti i giorni. La mostra, allestita dall'Associazione Nazionale Italiana dell'amicizia con il contributo del Consiglio regionale del Piemonte, sarà visitabile in due diverse sedi fino al 15 gennaio 2020. I presepi della collezione di Nivolo saranno esposti alla biblioteca della Regione Piemonte Umberto Eco in Via Confienza 14 e nella sede dell'Ufficio Relazione con il Pubblico di Via Arsenale 14. Giorni e orari di apertura sul sito internet del Consiglio regionale del Piemonte cr.piemonte.it